Buongiorno a tutti amici di Cartellino Rosa e bentornati sul nostro canale YouTube. Io sono Riccardo Dotti e questo è il post partita di Sassuolo Inter. Ultima gara in programma per la tredicesima giornata di campionato di Serie A femminile. La partita si è conclusa con la vittoria di misura delle padrone di casa con il gol di Valeria Pirone che raggiunge così a quota 8 reti in campionato la compagna di squadra Dubkova. Dopo un inizio sonnacchioso con le due squadre a studiarsi in campo l'azione da gol si concretizza al diciannovesimo minuto con una mischia in area nero-azzurra dove più giocatrici nero-verdi cercano di ribattere il pallone in rete. Al suo secondo tentativo in questa azione Valeria Pirone riesce ad insaccare. Colpevole, assolutamente colpevole, tutta la difesa nero-azzurra schierata al completo sulle linee di porta che non riesce più volte a spazzare lontano il pallone. Sassuolo che prende il comando della partita e va vicino al raddoppio due volte con Cambiaghi. Purtroppo per lei il pallone va sempre a finire di poco a lato. Inter che si rende pericolosa nel finale di primo tempo con un tiro non molto forte però pericoloso da parte di Stefania Terenzi che va a finire di poco a lato alla destra del portiere e la specialità della casa. Un'incursione da parte di Gloria Marinelli dalla fascia il suo tiro a giro che però questa volta purtroppo per la numero 7 si stampa sul palo. Secondo tempo che si apre con un'altra occasione per Cambiaghi che verrà poi sostituita da Bugheia e l'occasione più clamorosa per Dukkova, autrice anche lei di un'ottima prestazione quest'oggi. Purtroppo il pallone si stampa sulla traversa. Pirone va vicina al raddoppio personale però il portiere neroazzurro le nega la gioia compiendo un autentico miracolo e anche Bugheia va vicina al gol con Beatrice Merlo costretta a un salvataggio sulle linee di porta. Beatrice Merlo una delle poche giocatrici oggi a salvarsi nell'Inter propositiva sempre e comunque durante tutta la gara e questo salvataggio conta quasi come un gol possiamo dire. Sorbi cerca di correre i ripari cambiando l'inerzia della partita con due cambi sostanzialmente va più che altro cambiando la disposizione delle ragazze in campo. Abbassa al Borghetti sulla linea dei difensori toglie Ovinen e inserisce Catelli Ovinen complice come tutta la linea difensiva di una fase poco solida oggi che ha dimostrato più volte di dare troppo spazio alle incursioni delle neroverdi e inserisce Möller Hansen al posto di Baresi autrice di una prestazione impalpabile in attacco. Questo però non genera i risultati sperati. L'Inter si rende pericolosa solo nel finale grazie al buon gioco di Bertonova soprattutto che ci crede e mette molti palloni interessanti di Merlo come ho già detto prima e ha un gol annullato a Tarenzi con un fuorigioco dubbio perché Orsi sembra sia attiva su quel pallone. Poca cosa comunque per l'Inter oggi che non si è quasi mai dimostrato veramente in campo male quindi per Sorbi alla sua quarta sconfitta consecutiva che vede drammaticamente avvicinarsi l'Ellas a 10 punti in campionato l'Inter ne ha 14 e il prossimo sarà uno scontro diretto. Bene invece per le neroverdi che confermano il loro terzo posto in classifica.